La storia d'Italia, la nostra storia è a una svolta, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica, rinuncio dunque al mio ruolo politicamente fallimentare. Ora, subito, prima che sia troppo tardi, lascio il paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento in Europa e nel mondo, mai come in questo momento l'Italia che giustamente diffida di profeti e salvatori ha bisogno delle sinistre e dei comunisti. Da cittadini, anche a voi, a tutti voi, dico che è possibile realizzare insieme un grande sogno, al nord come al sud, vi dico che è possibile farla finita con forza Italia. Per quanto riverniciati e riciclati, vi dico che possiamo, un nuovo miracolo italiano.